Amici sportivi, a tutti voi un cordiale salute. Un sabato molto intenso per lo sport lucchese. Cominciamo con il calcio e con la lucchese di Mr. Lopez, sabato sera di scena a Pistoia. È la terza partita in otto giorni per la lucchese, attesa sabato sera ore 20 e 30 dal derby di Pistoia. Gara storicamente insidiosa, peraltro quella del Melani, contro un avversario relativamente tranquillo e quindi ancora più pericoloso, poiché è alla ricerca dei punti che possono valere la salvezza diretta. Ma anche la Pantera ha le sue esigenze, visto che la zona play-off è vicinissima e varrà la pena provare a prendersela. Rifinitura al Porta Elisa per la truppa di Lopez, che come sappiamo è alle prese con due defiance mica da poco. Il giovane difensore Maini è infortunato ad una spalla e ne avrà almeno per un paio di settimane. L'esperto fantasista Fanucchi è invece incappato nei fulmini del giudice sportivo e dovrà limitarsi a fare il tifo dalla tribuna. Detto che Dauri è sulla via del recupero, ma ancora non del tutto disponibile, le scelte del cinquantenne allenatore romano sono obbligate o quasi. Proviamo a snocciolare l'undici che calerà nel catino degli arancioni. Nobile in Porta, e specie Dermaco e Capuano in difesa. Tavanti, Bruccini, Mingazzini, Nolecce e Chini, la folta cerniera mediana. De Feo ad impazzare alle spalle della punta centrale Raffini. Un 3-5-1-1 prudente, attento, ma pronto a colpire. Il pallone racconta che all'andata era il 27 novembre al Porta Elisa finì 2-0 per la Lucchese, al termine di una partita piuttosto vivace. Lucchese subito avanti con il solito forte, arancioni reattivi e match spigoloso, che alla mezz'ora vide le due squadre rimanere in dieci per l'espulsione di Newton e De Feo. Poi, in avvio di ripresa, il capolavoro di tecnica e di forza di Giovanni Terrani, che chiuse il match. Ve lo riproponiamo senza parole, anche perché non ce n'è davvero bisogno. Serie D in campo nella giornata di domenica. Vediamo le designazioni arbitrali per la trentesima giornata. Fischio d'inizio delle partite all'ore 15, ma Cesare al Forte Querceta ha affidato a Fabio Cassella di Bra, Ponsacco-Ghivi Borgo, a Luca Cherchi di Carboni, a Viareggio Fezzanese, a Giuseppe Collu di Cagliari. Direttore tecnico della squadra nazionale di atletica leggera Elio Lucatelli ha ufficializzato l'elenco dei convocati per la IAF World Relays, ovvero le staffette, in programma a Nassau-Bamas il 22-23 aprile. Tra questi c'è anche Marcel Jacobs-Lamont, fiamme oro, ma come sapete anche al fiere e punta di diamante della Virtus Cassa di Risparmio di Lucca. Marcel fa parte del quintetto, da cui saranno scelti poi quattro, che disputeranno la 4%. Iniziata l'avventura in Coppa Toscana per la Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, nella categoria ragazzi e ragazze, verso la finalissima regionale a 12 squadre. Nella prima prova svolta a Pescia, la società lucchese ha conquistato un ottimo secondo posto con la squadra maschile, alle spalle dell'atletica Prato. In campo femminile, bronzo per la Virtus e primo posto per la Galla Pontedera. A livello individuale, ottima prova e terzo posto su oltre 80 atleti per Diana Amabile. Sotto la guida del tecnico Lorenzo Chiocchetti e dei collaboratori Leonardo Monace e Jacopo Bianchi, i giovani atleti della Virtus hanno sostenuto le tre prove, mille metri, lungo e vortex per i ragazzi, 60 ostacoli, alto e peso per le ragazze. Appuntamento domenica 9 aprile a Pietrasanta per la seconda prova della Coppa Toscana. Sara Paganucci, del gruppo sportivo Orecchiella, specialista sulle lunghe distanze, parteciperà alla 32esima Marathon de Sable, in programma dall'8 al 17 aprile. L'atleta lucchese è infatti una delle sole tre donne italiane, nastre di partenza della mitica e proibitiva corsa che terrà i concorrenti, pensate per sette giorni, sulle dune del deserto del Sahara marocchino. Il basket, ancora un successo per il centro minibasket Genova, che complice la sconfitta di Castelfiorentino a Carrara, si avvicina al terzo posto a 40 minuti dalla fine della stagione, a palatagliate contro l'Olimpia Legnaia, nell'ultima partita casalinga della regular season, c'è stata partita fino a metà del terzo quarto, poi l'incontro è stato un monologo degli uomini di Beppe Piazza, che si sono imposti 83 a 57, da segnalare 18 punti di Loni e 16 di Danesi. Dicevamo di questo sabato davvero importante per lo sport lucchese, abbiamo già detto del calcio, nel basket femminile, sempre sabato sera torna in campo anche il basket Lemura. La bellezza dello sport in generale è che nulla si può mai dare per scontato e che tutto va conquistato passo dopo passo. Talvolta il cammino è più faticoso, altre volte un po' meno. È il caso dei quarti di finale della Pool Scudetto, che vede il Gesan Lemura opposto alla Teclic-Broni, in un accoppiamento che alla vigilia pareva avere poca storia. Ed in effetti gara 1, giocata martedì sera al palatagliate, ha confermato a pieno tale previsione, una partita dominata in cui la superiorità delle bianco-rosse di Coccia e Diamanti è stata devastante. Ma si sa che il tecnico di Avenza, ormai da oltre dieci anni alla guida della formazione lucchese, ne ha vissute tante per affrontare il match di sabato sera con troppa disinvoltura. Sa invece che il giusto approccio, mettendo subito le cose in chiaro, significherebbe con ogni probabilità un'altra vittoria e chiudere la serie sul 2-0 approdando alla semifinale. In caso contrario, tutto si potrebbe complicare. Personalmente riteniamo che il divario sul parquet sia tale per cui un esito diverso da una vittoria di Crippe e compagne ci pare assai improbabile. Tuttavia, tenere alta la guardia non è mai sbagliato. In caso di vittoria, Lemura dovrà attendere il risultato di Napoli-Venezia con le partenopee costrette a vincere per portare le lagunari alla bella. Altrimenti, nella malaurata ipotesi di un clamoroso scivolone, la bella dovrà giocarla anche Lucca al palatagliate mercoledì 12 aprile. Ricordiamo il tabellone dei quarti di finale dove si gioca ancora al meglio delle tre partite con quella che è la situazione. Parte alta, Napoli-Venezia 0-1, Broni-Lucca 0-1, parte bassa, Vigarano-Schio 0-1, questo è il risultato della serie. Ragusa-San Martino di Lupari invece 1-0 con Ragusa che ha vinto fuori casa. Riparte questo fine settimana l'autodromo del Mugello, la Coppa Italia Gran Turismo nella tappa di casa. Riccardo De Bellis della DB Motorsport è pronto a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il campione lucchese, campione in carica, correrà con la consueta Porsche 997 GT3 preparata dalla ZRS di Zambon alla ricerca di conferme e grandi soddisfazioni. La palla a volo, campionato di B1 maschile, palla a volo Massa in Emilia per completare il capolavoro. Si gioca sabato sera alle 20.30 a Castelfranco Emilia. Castelfranco, terzo ultimo e che per salvarsi deve recuperare 5 lunghezze a Fucecchio. Anche Massa però arriva a questa sfida con un obiettivo bello stimolante dopo 20 vittorie consecutive. Infatti la capolista, vincendo da tre punti in Emilia, può regalarsi la certezza di essere tra le migliori prime in Italia, regalandosi direttamente l'accesso alla finale play-off e con l'eventuale bella da giocare in casa. Incetta di medaglie per l'atlete della ginnastica ritmica Alba Chiara nella finale del campionato regionale individuale Silvera Biareggio. Le ginnaste di Alba Chiara sono riuscite a conquistare ben 13 titoli regionali, 5 medaglie d'argento e 3 di bronzo. Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico rosa nero che ha visto in pedana la crescita e la maturazione delle proprie ginnaste, protagoniste davvero di ottime prestazioni. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi. Vi ringrazio per averci seguito fin qui e come sempre vi auguro un buon proseguimento dopo di noi la terza ed ultima parte del telegiornale. Grazie. Grazie.